Grazie a tutti. Il libro dura solo un attimo la gloria. Evito non dolore. Mi puoi trovare anche questa? È un libro sull'Italia e sto raccogliendo le firme dei campioni del mondo. Davanti c'è la firma anche di Gigi Buffon. Il libro è andato a cui viene. Fammi una foto. Avanti. Vino qua. Posso fare anche io una foto? Grazie mille. Stiamo insieme. Ok. Lo faccio io? E che fa ti faccio io? Vai. Grazie mille. Vino. 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 grazie